Scade l'8 settembre il termine per le osservazioni per la delibera attuativa diciamo delle linee di indirizzo sul Porto Vecchio io ho trovato incredibile che una cosa così importante per la città come dire sia stata pubblicata nel periodo estivo senza darne alcuna forma di comunicazione questa è una giunta che fa conferenze stampa per qualsiasi cosa per cose anche insomma vabbè forse buffe in alcuni casi e su una cosa così importante non c'è stata una comunicazione alla stampa e quindi una comunicazione pubblica una pubblicazione come per legge sul sito internet del comune di Trieste però non se ne è parlato io questa la trovo una cosa molto grave allora io colgo l'occasione per dire a tutti che questo è un grande errore perché è una delibera tecnica quindi va studiata, va capita, va approfondita c'era un dovere da parte dell'amministrazione di illustrarla la cittadinanza per dare spazio anche ad eventuali osservazioni o punti di vista diversi questo è uno spazio della città non è uno spazio dell'attuale giunta che c'è in questo momento ad amministrare il comune di Trieste e andava fatta una condivisione maggiore ecco questo lo denuncio invito chi fosse interessato ad andare sul sito del comune di Trieste a vedere gli atti insomma questa delibera e questa andrà poi in consiglio comunale grazie